felice colui che ha trovato il suo lavoro non chieda altra felicità scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice l'uomo che si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto di se stesso la vita ha due doni preziosi la bellezza e la verità la prima l'ho trovata nel cuore di chi ama e la seconda nella mano di chi lavora il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento tormento di non averlo tormento di fare un lavoro che non serva non giovi a un nobile scopo l'amore e il lavoro sono per le persone ciò che l'acqua e il sole sono per le piante il lavoro non mi piace non piace a nessuno ma mi piace quello che c'è nel lavoro la possibilità di trovare se stessi la propria realtà per se stessi non per gli altri ciò che nessun altro potrà mai conoscere loro parlano della dignità del lavoro vale la dignità e nel tempo libero la chiave del successo è sentire che il tuo lavoro è un gioco tu non lavori per guadagnarti da vivere o per riempire il tuo tempo o perché la società la tua famiglia o i genitori si aspettano che tu lo faccia tu lavori perché è il miglior gioco che ci sia l'unico nel quale puoi venire pagato per fare ciò che ti diverte quando qualcuno ti chiede chi sei e tu rispondi sono un ingegnere dal punto di vista essenziale la tua risposta è errata come potresti mai essere un ingegnere l'ingegnere è ciò che fai non è ciò che sei non chiuderti troppo nell'idea della funzione che svolgi perché vorrebbe dire chiudersi in una prigione il lavoro allontana da noi tre grandi mani la noia il vizio e il bisogno una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo tu vendi il tuo tempo le tue giornate per cui lo stipendio che ti danno è una sorta di ricompensa perché ti hanno rubato qualcosa il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell'evitare che riflettiamo sul senso della vita mi piace il lavoro mi affascina completamente potrei rimanere seduto per ora a guardare qualcuno che lavora il meglio nel vivere sta in un lavoro che piace e un amore felice sia che tu ci stia sei settimane sei mesi o sei anni lascialo sempre meglio di quando l'hai trovato